ecma 2021 stand voce per parlarvi di una naked entry level e lei la trofeo 500 ac che come vedete è caratterizzata da una designer decisamente moderno e in particolare mi concentro su una parte la posteriore dove troviamo questo scarico vistoso ma molto curato e il portatarga che si stacca dal codino per finire sul supporto qui posteriormente alla ruota una scelta che chiaramente va a enfatizzare la snellezza del codino il motore di questa voce 500 lo conosciamo già lo abbiamo già visto sulle altre 500 della gamma si tratta di un bicilindrico da 471 centimetri cubi con 43,5 cavalli 8500 giri per quanto riguarda invece la ciclistica davanti una forcella a steli rovesciati una caia da 43 mm e un posteriore con mono ammortizzatore regolabile nel precarico affidiamoci infine ai freni rimaniamo sul posteriore per parlare del disco da 240 mm all'anteriore invece troviamo una coppia di dischi da 298 mm e lo vedete la pinza è marchiata nissim cerchi naturalmente da 17 pollici gommati 120 70 davanti e 160 barra 60 dietro a questo punto parliamo di prezzo che non è stato ancora reso noto ma non dovrebbe discostarsi di molto dalla sorella che ha quota 4.900 euro tocca a voi però farmi sapere cosa pensate di questa voce 500 nei commenti qui sotto come sempre vi invito a cliccare sulla campanellina per seguire i nostri prossimi video e a mettere un like se vi è piaciuto questo video seguiteci poi sui nostri canali social facebook instagram tiktok twitter e soprattutto sul nostro sito www.motorbox.com vi ringrazio per l'attenzione vi saluto e vi rimando al prossimo video ciao Grazie per la visione!